50 per 31 profonda 18 quindi una borsa straordinariamente importante guardate che caratteristiche è una favola anche come morbidezza abbiamo tutte queste diciamo gemme che vanno a contornare una manico in gioiello che assolutamente regalato io ve le metto qui perché tanto penso che dureranno poco e va bene e l'altra la mettiamo di qua la mette su questo qua poi me la chiedete casomai poi ora mettiamo facciamo così ciro se no poi il carrello non mi ci sta metto un attimo l'ecopelo qui e mettiamo le colorine qui allora vediamo cosa stanno prendendo i ragazzi allora partiamo con l'abbigliamento allora voi guardatevene intanto che io non voglio allora non voglio sentire ragioni perché ragazzi bisogna essere concentrate allora io vorrei partire ma qua c'è c'è il top bianco e nero con giro collo tagliato così veste fino alla taglia 130 dietro è fatto così a tutte le cinghie e la schiena nude costava 149 scontato a 70 euro ne ho tre bellissimo eccezionale elasticizzato fino alla taglia 130 di giro seno è un amore 70 euro guardate il retro linea luxury bellissimo in ecopelle sono le cinture devo dire che veramente è veramente favoloso io l'ho preso e quindi l'ho preso anche a voi purtroppo le disponibilità sono scarse è un abito amiche in viscosa viscose lana mi sembra aspettate no viscose nylon bellissimo è un amore eh guardate anche il retro scontato a 70 euro sono tutte occasioni allora questa qua che chiede la signora marina è un modello di or è una borsa con la sua vedete il suo portachiavino il suo gingillo con questi cuori trapuntati e con la sua tracolla un amore bellissima perché poi la cosa bella è che la tracolla potete anche sganciare eh e quindi portarla a mano eh questa qua a mano è molto molto elegante è una borsa che merita la tracolla è a fibie ed è regolabile tutta in doppia cucitura chiusura gold a 45 se la signora la vuole confermare io lo farei io lo farei immediatamente senza pensarci troppo carmelina d'asti un bacio quale questo mark no guardate un attimo il viola tutti in nuance glicine viola questi sono abiti maglie che voi sotto potete mettere una gonna un pantalone a sigaretta sono favolosi vedete a mantella collo a coste linea alfa la linea alfa amiche è qualcosa in più è qualcosa che veramente fa la differenza 45 euro magari voi direte eh ma adesso ancora il dolce vita ma amiche portatevi oltre allora codice 35 82 dalla small all'extra large 4 neri 2 bordeaux e dovrebbero essere 2 però non lo so vado a controllare 2 bianchi e 2 cammello però non sono sicura dalla small all'extra large adesso il prezzo ve lo tira fuori ciro siate eccolo qua 40 euro per voi con tutto il cuore di sbarò un'altra parte un'altra parte Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.